Io credo che per una vera sostenibilità sia necessario il minimalismo. Lungi da me dell'averlo raggiunto, è un percorso che ho iniziato da poco, però lo ritengo essenziale. Non possiamo continuare a rincorrere l'ultimo gadget sostenibile perché allora non cambierà assolutamente nulla. Dobbiamo proprio cambiare mentalità. E per cambiare mentalità ci sono dei libri che ci aiutano e uno di questi, che trovo bellissimo, è di Fumio Sasaki. È la parte sostanzialmente filosofica del libro molto più famoso della Kondo, che è più pratica. Per capire che cosa si prova a possedere di meno, dovete pensare a quel momento in cui uscite dalla porta di casa con la valigia per un viaggio. Non provate anche voi quel senso di liberazione. Ho dietro solo ed esclusivamente quello che mi serve per il viaggio. Quel tipo di sensazione è ciò che Fumio ci promette di riuscire a percepire tutti i giorni nel nostro percorso di minimalismo, proprio quando riusciamo ad essere circondati solo dalle cose di cui abbiamo veramente bisogno. Una cosa estremamente positiva di questo libro è che in poche pagine e in pochissimo tempo di lettura, veramente dice un sacco di cose importanti e fondamentali, filosofiche e intense, proprio per riuscire a cambiare mentalità. Un'osservazione che mi viene spesso fatta è Sì, ma come posso permettermi di acquistare tutte quelle cose sostenibili che costano così tanto? Una chiave è sicuramente il minimalismo. Se dobbiamo comprare meno, se abbiamo veramente chiaro ciò di cui abbiamo veramente bisogno, possiamo investire soldi meglio, risparmiando tantissimo perché compreremo infinitamente meno cose, però acquisteremo meglio, acquisteremo più di qualità e a minore imbatto ambientale. Possedere meno significa anche che dobbiamo buttare di meno. E una cosa che contraddistingue il libro di Fumio Sasaki rispetto a quello di Marie Kondo è il fatto che Fumio non dice di prendere e buttare via tutto, cosa che non è assolutamente sostenibile, ma suggerisce di donare o anche di vendere, quindi di farci anche soldi con le cose di cui ci vogliamo liberare. Potrei parlare per ore di minimalismo, anche perché le sfaccettature sono tantissime, però vi lascio le parole di Fumio Sasaki, che in fondo al libro vi dà anche una sua definizione di felicità, che trovo estremamente, estremamente interessante e stimolante.